Secondo quanto riportato da Dago Spia, la conduttrice di Ray 1, che da anni al timone di Ballando con le stelle, avrebbe inviato, tramite il suo legale, una diffida a Mediaset. Secondo quanto si apprende, Millie Carlucci pensa che il nuovo show prodotto dalla fascino Amici Celebrities che va in onda ogni sabato su Canale 5 è troppo uguale a Ballando con le stelle, protagonisti del programma diversi VIP che si mettono alla prova in diverse discipline, dal canto al ballo, una mossa che spiazza tutti fan e addetti ai lavori e che è destinata a trasformarsi in una lunga guerra tra le due prime donne dello spettacolo italiano. Ma c'è un ma. Millie ha fatto una decisa precisazione su Twitter dove scrive Mi giunge notizia che avrà inviato una diffida a Mediaset. Non esiste alcuna diffida. Mi giunge notizia che avrà inviato una diffida a Mediaset. Non esiste alcuna diffida.